...della sua espressione, con i chiameggiati l'unico di cittadino, io sono un miso commerciante. Tenevo anche a precisare che questo palazzo duvara, sede del circo dei commercianti di Milano e provincia, è stato a suo tempo acquistato da un altro grande pugliese. Lui si chiamava, purtroppo non si non è più con noi, lui si chiamava Ducetto Orlando, e lui veramente è stato un faro per i commercianti milanesi, perché in quel periodo ha fatto da faro, veramente, per tutti noi, acquistando queste due magnifiche residenze, che sono Palazzo Castiglioni, del Stile Libri, fino a 800, e questo è un palazzo globale vicino a Ossica, che è un palazzo straordinario, e ci individua in Italia, quindi un pensiero anche per lui. Quindi se ricraziamo anche l'attività che appuntualmente ha mostrato, ecco, quello che è uno di cui...